La prima domanda è perché proprio l'acqua in ambasciata? Negli ultimi due anni abbiamo avuto tante opere uniche che sono passate in ambasciata, in più abbiamo portato un quadro delle grandi. La scelta di questo quadro è di pesa dal fatto che l'opera fosse particolarmente significativa, ma anche da un fatto molto banale, cioè che stesse nella nostra teca protettiva a umidità controllata e a disfondamento che abbiamo appeso alla vita. Per quanto ci attirasse molto la Danae, abbiamo dovuto constatare che la Danae era troppo gatta, abbiamo utilizzato la flora che è comunque un quadro che rappresenta un periodo molto importante della vita iniziale. La scelta di questa mostra è stata un'errore scelta e il filmo di questo quadro che è un'errore scelta. Sono esticosti di questo quadro. È un'errore scelta di questa condizione di questa stanza molto straffida e la forma della flora che ci trova molto spingente, è un'errore scelta che ci rende partecipare di questa stanza, la famiglia e la benvenza che fosse stata un nascimento sul posto? Quanto è stato difficile in generale organizzare questa mostra? Abbastanza, ma è sempre difficile organizzare delle mostre significative di grandi artisti italiani. Anche con Caravaggio a fine del 2011 abbiamo dovuto lavorarci moltissimo. In questo caso la mostra è stata facilitata dal fatto che abbiamo potuto prendere le 11 opere da musei italiani alla fine della grande mostra sul Tiziano che si è svolta alle scuderie del Quirinale che metteva insieme opere dai musei italiani e opere portate da musei italiani. Questo è stato abbastanza difficile organizzare delle mostre storie italiani italiani italiani. Ma in questo caso la nostra scuola è semplificare la scuderie del Quirinale, dove le lavoro di Tiziano come in italiani italiani e anche in musei per tutto il mondo. e proprio da qui abbiamo avuto la scuola. E' un'altra domanda. Il significato di Tiziano per l'Italia è importante per l'Italia e cosa significa per la Russia? Questa è una domanda difficile. Tiziano per l'Italia è importantissimo, perché Tiziano innanzitutto significa una grande parte del nord Italia, perché Tiziano ha lavorato a Venezia, Lombardia, Centro Italia e dunque prima di andare a Roma ha avuto un collegamento molto forte con il territorio italiano. Tiziano poi è importante, perché è il primo pittore italiano che non è stato solo italiano, ma è diventato un pittore europeo, perché è diventato il pittore di porte dell'imperatore di Spagna, ha ritratto i grandi personaggi europei, per cui ha portato la pittura italiana a essere non solo conosciuta, ma anche attiva in altri paesi dell'Europa. Questo è un'imperatore. Tiziano per l'Italia ha un grande significato, prima di perché ha un'interessante molto interessante con il territorio della regione, perché Tiziano ha lavorato molto prima di l'Italia, in Venecia, in Bambardi, poi si è venuto in Rima e ha un'attività in un'attività nazionale, la sua lingua e la sua lingua è un'attività di tutto. Inoltre, Tiziano è stato il primo pubblico, che ha trovato l'Italia, che ha trovato l'Italia, che ha trovato l'Italia. L'Italia ha lavorato in un'attività dei monarchi, che ha presentato il grande представito dell'Europa dell'Italia. Quindi Tiziano ha fatto l'Italia, che ha fatto l'Italia, non solo l'attività e l'attività in Italia, ma anche l'attività della storia dell'Italia. in Russia può essere importante, perché potrà fare, chi verrà a visitare la mostra, potrà fare dei paragoni con le opere di Tiziano che ci sono in Russia. Ad esempio, per tornare alla Danna di Tiziano, all'Armitage c'è un'altra importante versione della Danna, e dunque potrà essere interessante confrontare la Danna venuta da Capodimonte e dalla sovrintendenza di Napoli con la Danna conservata a San Pietro. C'è una storia interessante dietro, perché Tiziano, oltre che essere stato il primo grande pittore europeo, è stato anche il pittore che ha conosciuto più trasformazioni, la cui arte è cresciuta con lui, per cui è riconoscibile il Tiziano giovane, dal Tiziano maturo, dal Tiziano vecchio al Tiziano molto vecchio. solo probabilmente Picasso ha avuto tanti stili diversi che Tiziano. Dunque abbiamo inteso portare in Italia, in Mosca, un Tiziano che si evolvee dagli anni giovani fino agli anni della vecchiaia. E crediamo che questa sia una storia molto interessante, una storia di grande inventività, una storia di grande vivacità interventuale. La storia è la possibilità di raccontare la storia, la storia della storia e la vita del suo artistico. Perché Tiziano, in realtà, è un artistico, che ha avuto un grande quantità diversi pavimenti sull'attività. E, probabilmente, in questo modo è solo con il Tiziano. E questo è molto molto diverso. L'ancien Tiziano, l'ancien Tiziano, l'ancien Tiziano, e tutti questi stili, tutti questi mani sono molto riusciti. E noi stavamo presentare a tutti, per raccontare la storia di una storia di una storia di vivacità, di un'attività, 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 di un'attività e di un'attività. E, per ultimo, anche se sto parlando troppo, un altro motivo per cui siamo particolarmente contenti di questa mostra è che c'è ancora una volta la danza di Capodimonte. e, in questo momento, nel padiglione russo della Biennale c'è l'installazione dedicata a Danai e di Zaccaro, per cui ci sembra una coincidenza temporale particolarmente fortunata riuscire a vedere queste due visioni della Danai a quasi 500 anni di distanza. Grazie. 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 Grazie.